Eh, mi sa che è meglio così. Someone DMed me on Instagram and he asked me how do we say due volte su tre o quattro volte su cinque in English? Quindi qualcuno mi ha scritto su Instagram e mi ha chiesto come facciamo a dire quattro su cinque, due su tre in inglese? Ebbene, è molto semplice, si dice two out of three times. Due su tre volte, oppure si può anche mettere il times prima, quindi two times out of three or four times out of five or four out of five times, stessa identica cosa. Vi do un paio di esempi perché su questa pagina siamo all about examples. It worked two out of three times, quindi ha funzionato due volte su tre. Avete presente quando fate una partita a carte, che ne so, o a qualsiasi altro sport, a dire la verità, e dite facciamo alla meglio di tre, quindi chi ne vince due su tre praticamente, adesso non mi ricordo in italiano come si dice di preciso comunque, in inglese potreste dire una cosa come all right, best two out of three, quindi ok, alle due meglio di tre, non so come si dice in italiano, come si dice in italiano? Domani mattina dovrei avere un po' di tempo, se volete, per la prima volta in anteprima mondiale, andiamo live sul canale Instagram e mi taglio i capelli davanti a voi e chiacchieriamo, 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 mi fate qualche domanda e io intanto mi rappo la cabeça. avete presente, avete presente? Grazie a tutti.